Sorprende sempre per il suo tocco, per la scaletta, comunque anche interessante, pezzi nuovi, nuovi album, pezzi vecchi, insomma, molto positivo. Concerto spettacolare, musica irlandese a palla. Storia della musica, sono cresciuto con questa musica. Non mi aspettavo un concerto così, è partito freddo e poi bello, mi è piaciuto molto. Il concerto tocco benissimo, lui nella mia vita mi è sempre sfuggito, l'ho amato da subito e finalmente sono riuscito a vederlo. Oltre alle aspettative. Io vengo dalla Sardegna, quindi abbiamo fatto un bel po' di chilometri per marco. Mi piace molto vedere l'affetto delle persone che hanno per lui, mi piace proprio guardare anche la faccia della gente mentre lo ascolta perché se uno dopo tanti anni riesce ancora a emozionare così vuol dire che c'è qualcosa proprio che funziona. Diciassettesimo concerto di Mark Nottingham, sempre grandissimo, qualità al top. Era la prima volta che lo vedevo e quindi è stato anche molto emozionante. Il concerto è stato benissimo, bellissimo, veramente è stato un sogno di poter vedere Mark Nottingham una volta nella mia vita. Allora è stato fatto perché io vengo dall'Africa, quindi durante tutta la mia liceo, all'università, ho sempre sognato di vedere una volta Mark Nottingham. Allora, di sopra sono qui a Milano e ho approfittato di questa occasione per vederla e è stato bellissimo, veramente.